Eliu seguitò dicendo Ascoltate, ossaggi, le mie parole e voi, dotti, prestatemi l'orecchio poiché l'orecchio valuta i discorsi come il palato assaggia il cibo Esaminiamo tra noi la questione indaghiamo tra noi ciò che è bene Ora Giobbe ha affermato Sono innocente ma Dio mi nega giustizia Nonostante la mia ragione passo per bugiardo Una freccia mi ha colpito a morte benché non abbia peccato Chi è come Giobbe che beve il sarcasmo come acqua si associa ai malfattori e va in compagnia degli iniqui Infatti ha affermato L'uomo non guadagna nulla nel cercare il gradimento di Dio Perciò, uomini di senno, ascoltatemi Lungi da Dio il fare il male e dall'Onnipotente la perfidia Invece, egli rende all'uomo secondo le sue opere e tratta ciascuno secondo la sua condotta No, in verità Dio non fa il male E l'Onnipotente non viola il diritto È forse un altro che gli ha affidato la terra ed un altro che lo ha incaricato del mondo intero Se egli non pensasse che a se stesso e ritirasse a sé il suo spirito ed il suo respiro Morirebbe all'istante ogni creatura E l'uomo ritornerebbe in polvere Se sei intelligente Ascolta questo Presta orecchio al suono delle mie parole Un nemico della giustizia Potrebbe forse governare? Osi tu condannare il sommo giusto? Si dice forse ad un re iniquo e dai grandi malvagi? Egli non è parziale in favore dei principi e non preferisce il ricco al povero perché tutti sono opera delle sue mani In un istante essi muoiono nel cuore della notte Il popolo si agita ed essi spariscono Si rimuove il tiranno senza sforzo Perché Dio ha gli occhi sulla condotta dell'uomo ed osserva tutti i suoi passi Non vi sono tenebre né oscurità dove si possano nascondere i malfattori Poiché non si pone all'uomo un termine perché comparisca in giudizio davanti a Dio Senza fare inchiesta egli fiacca i potenti e mette altri al loro posto Poiché egli sventa le loro manovre In una notte li travolge e sono schiacciati Come malvagi li colpisce alla vista di tutti Giacché si sono allontanati da Lui senza curarsi delle sue vie fino a far giungere verso di Lui il grido dei poveri ed egli udì il lamento degli oppressi Ma se resta impassibile chi lo condannerà? Se nasconde la sua faccia chi potrà vederlo? Egli pertanto veglia sui popoli come sui singoli non volendo che l'empio regni e che si pongano inciampi al popolo Si può dunque dire a Dio porto la pena senza aver fatto il male? Ciò che sfugge alla mia vista mostramelo tu Se ho commesso il male non lo farò più Dovrebbe egli retribuire secondo le tue norme dato che tu rifiuti il suo giudizio? Poiché tu devi scegliere e non io di quanto sai Gli uomini di senno mi diranno come ogni saggio che mi ascolta Giobbe non parla con conoscenza di causa le sue parole sono prive di senno Sia dunque Giobbe esaminato a fondo per le sue risposte degne di un malvagio poiché ha aggiunto la ribellione al peccato si burla di noi e moltiplica contro Dio le sue parole e